collezioni per la gioventù è questo il motto coniato tanti anni fa da giuseppe panini fondatore delle mitiche figurine che nel mito ci sono entrate soprattutto grazie alla raccolta dei calciatori il tempo si sa però cambia tutto quasi ed anche le figurine dei calciatori si sono dovute adeguare e allora poco spazio alle cose da bambini la raccolta presentata proprio l'altro giorno è dedicata ai collezionisti a quelli che con i calciatori ci sono nati e cresciuti e non riescono più a farne a meno sono loro che tramandano la passione oggi ai ragazzini coinvolti ormai in altre faccende da giochi in particolare videogames internet tablet e quant'altro insomma il rischio della panini e dei calciatori era quello di perdere innanzitutto la concessione per confermarsi leader sul mercato la tops era infatti in agguato come già avvenuto in inghilterra e germania ma soprattutto il rischio è quello di perdere il feeling con alcune fasce di collezionisti la panini attraverso però il buon lavoro di antonio allegra responsabile marketing della società ha però migliorato addirittura i suoi numeri negli ultimi anni la crisi non sembra aver toccato le figurine calciatori nonostante un ulteriore aumento del prezzo un pacchetto con all'interno sei figurine è arrivato a costare 70 centesimi ma sentiamo allegra un album che definirei epocale per prima volta infatti esce sotto leggi da ufficiale di lega serie a lega serie b lega pro associazione italiana calciatori associazione italiana allenatori è veramente l'unico prodotto ufficiale di tutto calcio italiano calciatori 2012 2013 è un album di 128 pagine dove incollare 741 figurine di cui 57 in materiale speciale orografico la raccolta copre tutte le categorie del calcio quindi dalla serie a fino alla serie di a calcio femminile